è accesa sta telecamera ciao youtubini benvenuti in questo vlog per festeggiare i 500.000 iscritti del canale sono molto contento di festeggiare questo traguardo questo video sarà in compagnia del gatto che arriverà a momenti e per festeggiare i 500.000 iscritti io non me lo sarei mai aspettato che è arrivato non si è schiantato deficiente non si è schiantato ma rompi bene ma si che si rompe ma non si rompe va bene ecco un salutone al gatto che mi sta non mi puoi uccidere se mi uccidi finisce tutto il vlog se sparo il telefono succedono cose deficiente mi fai male il telefono è antiproiettile ciao gatto ma dai sono invisibile ciao iotopini no non ti si vede non ti si vede ma porca troia e lo saluta ci sono ciao ciao bellissimi ma non ti si muove la bocca come non mi si muove la bocca eh no un salutone dal gatto che ha la maglia gattale hai visto spam iscrivetevi a www.iofaccivlogger.er oggi guarderemo la mia morning routine ma come questo è un journey gamer no non è un journey gamer mai questo qui non rompere i coglioni ma scusa ma non sono io il protagonista di questo video no con questa giacca stiamo andando alla fiera del cetriolino a pezzo calabro ma senti ma mi stai dicendo che sono completamente inutile ai fini della gogliardia ma sì comunque sei deficiente mi sono andato i coglioni me ne vado come te no gatto è la fine è la fine oh oh sto finendo dove non so dove sto finendo contro mano io avrei un certo languarino comunque hai fame? è un pochino sì ma bastava dirlo subito zio andiamo ad assaggiare qualcosina di buono vabbè che menù impostati comunque moto cicletta ah non dovevo metterlo sotto? va bene hai detto motociclista pensavo fosse l'obiettivo siamo qui al liquor rebs rebs non so me l'ha consigliato il signor gatto grazie mille gatto figurati sono arrivati i paramedici a curare il signore un signore si è sentito male sono arrivati i paramedici gatto li ringrazia mi piacciono le marche delle birre peacewasser making making your mouth feel lucky allora che cosa le do? che cosa le do? ma è le gocciaste cosa desidera? gatto ha trovato un suo fan eccolo l'ha fermato per un autografo sono famoso anche io sto guidando io e c'è qualche problema però in questo momento non va avanti gatto il camion ci penso io e scendo a spingere va bene grazie per i soccorsi mi hanno mi hanno mi hanno cremato oddio lo sapevate che gatto sa guidare la moto? oh yeah ho scoperto appena una cosa del mio migliore amico che non sapevo stiamo per morire ce l'hai la benza? il millante per la benza? io di solito la ciuccio dalle macchine però ho visto un tutorial su youtube su come comprarla ah quello fatto dal solito ragazzino di 12 anni ovviamente certo che fa le cose meglio lasciate un like per la benza cos'è? cos'è? cos'è il like? niente 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 ma il negoziante è Stone Cold Steve Austin fammi una foto con lui fammi una foto fammi una foto dai sorridi ma sorridi si è girato aspetta 3 2 1 vai e questo qui è praticamente il tutorial che ho visto da quel ragazzino di 12 anni che fa i grandi video su internet ciao Giovanni sei un figo e noi praticamente versiamo la benzina così tutto intorno al veicolo perché così dopo lui lo assorbe tramite le gomme e poi funziona velocissimo bravo Giovanni iscrivetevi al canale di Giovanni Giovanni ti pensiamo tutti non vediamo l'ora che tu esca dalla terapia intensiva un big like per Giovanni per la sua pronta guarigione e ora che abbiamo imparato come fare benzina ci piacerebbe andare fuori città per fare un giro e cercare nuovi posti perché noi siamo sempre alla ricerca di nuovi posti e ci piacerebbe sono arrivati altri fan che non sanno dove parcheggiare mi sa un big like per i pompieri per il lavoro sottopagati perché il governo ladro siete degli eroi altro che Spider-Man questi sono gli eroi che la città ha bisogno quelli e le puttane che sto inquadrando in questo momento ma ho in mente tra l'altro di portare un nuovo format nel 2016 cantare sui cadaveri sul tappeto volare ma perché devi rompere i coglioni alla gente con i format questo qua vuole diventare famoso ma spegni tutto andiamo perché devi trattarmi sempre di merda ma smettila cosa ti ho fatto io deficiente gatto è riuscito a prendere il suo aereo privato perché c'ha i soldoni e dovrebbe decolare a momenti yeah vienimi a prendere che voglio gatto gatto dove hai imparato a guidare gli elicotteri militari ma ovviamente da Giovanni ah giusto è vero che Giovanni c'ha il tutorial per ogni cosa eh sì guarda si vede la scritta di Vinewood non mi hai mai portato l'ipote amici per i miei 500.000 iscritti no? va bene dai vieni che facciamo sta cazzo di foto che ci stai mettendo 3 ore arrivo perché già sto lì co tempo un secondo sono da te ma tu sei coglione tu sei coglione facciamo che voi mi fate la foto e io mi faccio un selfie così facciamo selfie section ah 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 facciamo un cadavere calto sui cadaveri è l'uomo ma la smetti va bene e niente questa è stata una giornata veramente incredibile io vi ringrazio ogni 500.000 di voi e mi piacerebbe baciarvi tutti ma non si può quindi anche a nome del gatto adesso mi sono messo alla guida grazie mille adesso tira fuori il cazzo adesso mi devi dare il culo cosa vuoi da me? allora dai cosa vuoi da me? ma sei coglione ma no ma sei deficiente scendi aiuto dai qual è sei sei un pezzo di merda no no non posso più vivere così è un pezzo di merda canto su di te batman è l'uomo pipistre è l'uomo pipistre è l'uomo pipistre